Benvenuti a Lazio News, il vostro punto di riferimento per le ultime notizie sul calcio. Assicuratevi di un mi piace e iscrivervi al canale per restare aggiornati su tutte le novità riguardanti la Lazio. Maurizio Sarri potrebbe decidere di escludere Luis Alberto dalla sfida di domani sera tra Lazio e Feyenoord. Come riporta il messaggero, il mago è apparso affaticato nelle ultime uscite e meriterebbe un po' di riposo per ritrovare smalto e brillantezza. Da inizio stagione le ha giocate tutte con tre gol e tre assist tra campionato e Champions League. Sarri fa fatica a rinunciarci, ma il feeling ritrovato ormai da un anno non può trasformarsi in un amore tossico. La decisione verrà presa a ridosso del match anche dopo un confronto fra i due, ma Kamada scalpita alle sue spalle ed è pronto a comporre il centrocampo con Vecino e Guendouzi. Ehi, tifoso bianco celeste, pensi che Luis Alberto debba essere risparmiato? Lascia la tua opinione nei commenti, poiché è molto importante per la Lazio. Grazie per aver guardato e arrivederci alla prossima.